Questa è la chiesa che c'è all'Ogrono, naturalmente chiusa. Comunque sono le 7, di sera c'è un suolo ancora altissimo. Tutte le chiese qua sono tutte chiuse, però. Musica! Un piatto degli artisti. 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 Perché qui è sempre Natale, pensa a te, ciao bambu Ciao ragazza, questa è quella che ieri si è fermata con noi